Nel corso del convegno L'Anziano Fragile, confronto tra terapia chirurgica conservativa innovativa ed implicazioni medico-legali che si è tenuto in clinica Mangiagalli a Ulamagna a Milano, si è parlato anche di terapia chirurgica delle fratture vertebrali. Di questo tema ha parlato il professor Carlo Ruosi dell'Università Federico II di Napoli e a lui abbiamo rivolto alcune domande sull'argomento. Allora professore, cosa si intende per terapia chirurgica delle fratture vertebrali? Per terapia chirurgica delle fratture vertebrali, parliamo dell'anziano e quindi dell'anziano fragile, intendiamo proprio tutte quelle situazioni di crollo vertebrale da fragilità caratteristico proprio dell'osteoporosi in particolar modo nelle persone anziane e in particolar modo nelle donne che come sapete sono più esposte grazie alla situazione post-menopausale, ad un aumento di debolezza e di fragilità delle strutture vertebrali e quindi quando parliamo di crolli vertebrali parliamo poi della possibilità di trattare queste fratture che possono essere trattate in modo conservativo ma anche in modo chirurgico e il modo chirurgico è sicuramente oggi quello più valido per un recupero più immediato del paziente. Quali sono le opzioni attualmente disponibili? Le opzioni attualmente disponibili sono tutto sommato due, una cosiddetta mini-invasività del trattamento che corrisponde ad un cosiddetto acciamento plastica che si divide in vertebroplastica e cifoplastica che sono i trattamenti mini-invasivi per cutani che vengono fatti senza avere l'incisione sulla cute e che sono quelli praticamente che vengono preferiti in quanto sono senz'altro quelli più graditi dai pazienti e che come diciamo prima assicurano una migliore restituzione ad integrum. Professore, nel passato ci sono state delle discussioni tra preferire la vertebroblastica, la cifoplastica, mi può dire qualcosa? Allora, oggi praticamente si dice che i trattamenti più innovativi sono quelli che comunque vengono fatti per via per cutanea e quasi tutti utilizzano il cemento, esistono anche dei trattamenti per cutani senza cemento, ma da un punto di vista pratico si può dire che ci sono delle indicazioni per la vertebroplastica e delle indicazioni per la cifoplastica. Non c'è più una guerra fra le due metodiche, ma c'è più direi una differente indicazione rispetto al timing di trattamento perché in alcuni casi in cui si può intervenire precocemente è sempre da preferire la cifoplastica. Senta, per concludere, quanto è importante trattarle precocemente queste fratture? Questo è esattamente il punto notato del trattamento chirurgico delle fratture vertebrali da fragilità. Cioè, siccome passano spesso misconosciute, i pazienti anziani hanno dolore alla colonna vertebrale, ma questo dolore non viene giustamente identificato come un crollo vertebrale da osteoporosi e quindi da fragilità. Va allargato il concetto che tutti i pazienti che hanno un dolore acuto anziani possano avere un crollo di una vertebra e quindi se scoperta precocemente sicuramente il trattamento sarà molto più efficace in quanto non avremo un'alterazione morfologica della vertebra, ma riusciremo a trattare una vertebra anche da un punto di vista di recupero della sua forma originaria.